E' già a lavoro da inizio settimana il neo DS del Giulianova Nicola Dottavio. L'obiettivo è recuperare un po' del tempo perso in queste settimane, condite da incertezza sotto il profilo societario e dal conseguente addio di dirigenti e tecnici. Primo compito è la scelta dell'allenatore. In pole position rimane Guido Di Fabio, tecnico stimato da Dottavio e del quale si parla già da tempo, ma senza che si sia mai arrivati al dunque. Il Giulianova però valierà altri profili, tra i quali non dovrebbe esserci Pino Di Meo, riduce dall'ultima salvezza con l'Agnonese. Una volta scelto l'allenatore, con lui sarà condivisa la strategia sull'allestimento della Rosa, partendo dalla valutazione della permanenza di alcuni pilastri delle ultime due promozioni, quali il difensore Federico Del Grosso, il bomber Romano Tozzi Borsoi e altri ancora. Resta chiaro che al momento l'obiettivo del Giulianova è la salvezza, ed una stagione di transizione in Serie D che permetta alla società di strutturarsi per poter cercare il salto di categoria nelle stagioni successive, dando modo al presidente Bartolini di provvedere ad un allargamento della base societaria, operazione già avviata grazie all'intermediazione del consigliere comunale Ivan Costantini. A vasto è andata a termine l'operazione che porta in bianco-rosso Daniel Giampaolo, ex Giulianova, lo scorso anno al San Nicolò. Si registra invece una forte frenata nella trattativa per il ritorno del centravanti Umberto Prisco, mentre si è bruscamente interrotta quella con i nero stellati per l'acquisto del promettente attaccante classe 99 Mattia Bruni, una delle poche notegliete della squadra pratolana dello scorso anno. Proprio mentre si apprende dello stop alle trattative tra il Teramo e Gilberto Candeloro, il patrono del Francavilla piazza un altro colpo di mercato, strappando la conferma di Cosmo Palumbo, reduce da una strepitosa stagione in giallorosso che gli è valso il premio di miglior centrocampista dell'intera Serie D per la stagione 2017-2018. La conferma di Palumbo è abbinata anche a quella del gioiellino ganese Baba Youssef e poi del centrocampista Matteo Milizia e del portiere Valerio Spacca, due atleti di lunga militanza francavillese. La grande sorpresa d'inizio settimana è stata quella relativa a Francesco Micciola, che è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Matelica. Dopo l'addio a Vasto, Micciola era destinato a ricoprire un ruolo dirigenziale nel progetto tecnico derivante dalla fusione tra San Nicolò e Virtus Teramo. Una volta saltata, rumors lo accostavano comunque alla Virtus Teramo in eccellenza, fino al colpo di coda del presidente del Matelica Mauro Canil, che lo ha scelto con l'importante responsabilità di migliorare l'ultima stagione quando il Matelica ha perso il campionato all'ultima giornata e ha poi vinto i play-off, ma le velleità di ripescaggio in Serie C si sono infrante sui problemi legati all'impiantistica.